Sì, è con piacere che vi racconto questa cosa che è successa quasi casualmente. Cinque amici che storicamente negli anni Ottanta hanno iniziato, ovviamente c'erano anche altri enti che svolgevano questo, ma hanno iniziato con la Caritas di Arezzo l'esperienza del servizio civile al militare, che a quell'epoca era obbligatorio, è stato obbligatorio fino al 2004, e applicando la legge 772 sull'obiezione di coscienza e il servizio civile alternativo. Questi amici sono appunto il sottoscritto, insieme a Dan Stelmo Grotti, Gianni Grazzini, Franco Monnicchi e Marco Baldini, che hanno iniziato questa esperienza con la Caritas di Arezzo e ci siamo ritrovati in questi giorni e ci sembrava doveroso e anche carino forse lanciare questo messaggio per capire che cosa è rimasto anche di questa esperienza legata ai temi della pace, della non-violenza, proprio in un momento in cui soffiano venti irrazionali e davvero drammatici di guerra che provengono da molte parti del mondo, come dice Papa Francesco la Terza Guerra Mondiale a pezzi, ma in particolare in questi giorni dall'Ucraina, e dall'altra parte ecco in occasione anche della settimana che si apre a Firenze, dei colloqui del Mediterraneo, che stanno coinvolgendo sindaci e vescovi, proprio nel nome di Giorgio Lapira. Giorgio Lapira, padre Balducci e tantissimi altri, Don Lorenzo Milani, sono stati, per così dire, anche nostri spiegatori nel fare poi questa scelta, nel momento in cui negli anni Ottanta, durante la visita, diciamo così, di leva, decidemmo proprio di dire no alle armi, con tutto il rispetto anche nei confronti delle persone dello Stato, e dall'altra parte un no che voleva dire non fare nulla, ma rendersi utili per il proprio paese, per la propria società, attraverso un servizio civile. Beh, l'esperienza straordinaria mia e di questi amici che ci siamo, come dire, che si sono incontrati e che vorrebbero anche estendere questo incontro, è sicuramente quello di grandi e notevoli corsi di formazione, e di questo dobbiamo ringraziare, voglio citarlo, Monsignor Mario Rendellini, che era allora il sacerdote aretino responsabile della Caritas, siamo negli anni Ottanta, per cui veramente parliamo di un'altra era, ma dall'altra parte ecco che ci ha stimolato a fare dei corsi di formazione interessantissimi sul temi della non-violenza e della pace, con personaggi come Giovanni Nervo, Giuseppe Pasini, con personaggi che poi hanno fatto anche la storia del pensiero sociale anche e del pensiero politico successivo. E dall'altra parte ecco, ci ricordiamo e mi ricordo in particolare che cosa è il servizio che noi svolgevamo anche come obiettori dopo la formazione. Ricordo che per molti anni il servizio civile è stato penalizzato rispetto al servizio militare, perché chi faceva questa scelta non faceva un anno, ma faceva 20 mesi, però dall'altra parte ecco la bellezza e la gioia di poter servire per esempio i più poveri, gli ultimi, i giovani, gli anziani, anche gli anziani negli istituti e nelle case di riposo che allora ovviamente avevano anche una situazione più complicata rispetto a quella di oggi. E poi ecco servizi per esempio, io ho un ricordo molto particolare del servizio svolto in Irpinia successivamente al drammatico terremoto del 1980. Per cui tante esperienze che sono state per noi scuola di vita e che hanno inciso anche nella nostra attività, anche lavorativa, nella vostra vita familiare. Ormai noi siamo oltre a 60 anni, siamo già nonni, alcuni di noi sono già in pensione, ma hanno vissuto per esempio l'attività di dirigenti nel settore della sanità, della scuola. Alcuni di loro, alcuni di questi amici continuano ad essere per esempio presidenti di cooperative sociali o addirittura responsabili di organizzazioni di volontariato a livello nazionale o locale. Molti di questi sono stati amministratori, sindaci anche, cioè sono persone che poi hanno continuato a dedicarsi, siamo persone che hanno continuato a dedicarsi anche al territorio con questo spirito, lo spirito della pace che è la vera risposta rispetto a quello che anche oggi vediamo esserci nel mondo. Noi ci proponiamo di creare, anche attraverso i media, la possibilità di raccogliere più testimonianze possibili, per esempio per quanto riguarda la Caritas, ripeto, oltre alla Caritas c'erano anche tantissimi altri enti convenzionati con il Ministero che svolgevano questo tipo di attività, ma per quanto riguarda la Caritas ci proponiamo per esempio di andare alla ricerca degli oltre 600 obiettori che fino a quando c'è stato l'obbligo di leva e dunque la possibilità del servizio alternativo si sono adoperati con la Caritas per vari progetti e abbiamo istituito anche un sito, un form, in modo tale che vorremmo vedere se da qui ai prossimi mesi riusciamo anche a creare un evento che porti alla riflessione su questi argomenti e temi che comunque secondo noi sono ancora di grande attualità.